ciao ragazzi e benvenuti in questo novisimo video di mousebot che è un gioco che non conosco questo gioco già l'ho provato e questo gioco è una figata e consiste di essere un topo che che so devo superare questi gatti questi ostacoli che hanno fatto però è difficile però è difficile ora lo spiego perché è difficile perché praticamente ci sono degli ostacoli che si fanno impazzita ecco ad esempio questo che è un roll a greater che mi ha diventato come una pitta li giochiamo non si sa mai se potremmo vincere perché questo gioco è difficile si arriva un certo livello che è il livello boss ovvero quella più difficile e non so cosa riesco a sopravvarlo perché io sono una schiazza ho tre vita ho tre vita perché sto facendo come se non ci passano domani e quindi dunqueca non ci passano domani no 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 e continuiamo questo è un sacco di regia di questo momento di regia e di non spettare perché questo è un sacco di regia un sacco di regia un sacco di regia un sacco di regia e non lo so il resto è un sacco di regia 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 il regia un sacco di regia di regia e non so precisamente cosa significa questo gioco no, però adesso proveremo il livello 3 no, 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 no no, 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 no no, 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 no che tutti i video sono finite, andiamo a lo shop per vedere qualcosa, vediamo quale cosa costano, costano, io non li tengo i moni, questo ad esempio è molto bello, è bellissimo, come accesso il video, proprio dopo, pure questa, è molto bella, questo cappello da cavolo, mi piace, però devo avere un sacco di queste monete qua, che sono difficili per avere, pure questa è carina, l'accessorio mi piace molto, vabbè, qua abbiamo un regalo che costa 100 formaggi, no, la compriamo, la compriamo, ho cambiato il design, la skin, abbiamo comprato, la skin abbiamo comprato, va bene, va bene ragazzi, speriamo che il video vi sia piaciuto, lasciate un bel viaggio, iscrivetevi al canale, noi ci vediamo presto con un bellissimo video.